In questo modulo saranno analizzati i seguenti temi, il concetto di Life-Wide Learning, i diversi contesti di apprendimento, le differenze tra apprendimento formale, non formale e informale, l'apprendimento esperienziale e la casistica legata alle diverse esperienze di apprendimento. Nel modulo precedente abbiamo visto come negli ultimi anni le direttive europee hanno diffuso il paradigma dell'apprendimento permanente declinabile in contesti differenziati, anche non tradizionali, con l'obiettivo di sostenere nelle persone lo sviluppo di abilità e competenze necessarie per la realizzazione personale, la salute, l'occupabilità e l'inclusione sociale. Insieme al concetto di Life-Wide Learning, dunque, si diffonde quello di Life-Wide Learning, che si riferisce soprattutto alla dimensione spaziale dei luoghi dell'apprendimento e con il quale si evidenzia che esso avviene in un'ampia varietà di ambienti e contesti, che possono essere il lavoro, la vita sociale, la famiglia, comprendendo ogni attimo di vita. L'idea di scuola come istituzione educativa ed unico luogo in cui si costruiscono i processi di apprendimento viene quindi superata e si afferma una nuova visione in cui il soggetto continua ad apprendere grazie ad attività extrascolastiche, culturali, sociali, lavorative, non sempre intenzionalmente progettate per lo scopo di sviluppare apprendimento. Si distinguono tre diverse categorie fondamentali di apprendimento, formale, non formale e informale. L'apprendimento formale avviene in contesti istituzionali tradizionalmente delegate alla formazione, come possono essere la scuola e l'università. L'apprendimento non formale, invece, si realizza in contesti formativi, non istituzionalizzati, e si riferisce all'apprendimento di attività specifiche, scelte comunque intenzionalmente dai soggetti. L'apprendimento informale, invece, è quell'insieme di conoscenze fluide che si sviluppano grazie alla partecipazione del soggetto a diverse situazioni legate alla vita quotidiana, familiare, lavorativa o al tempo libero. Sono quei saperi taciti, difficili da verbalizzare e mostrare. In questo specchietto potete notare come le diverse tipologie di apprendimento si distinguono in base ai contesti in cui vengono erogati, che possono essere strutturati o meno, all'intenzionalità del discente, che può essere anche questa presente o assente, e al rilascio finale di certificazioni. L'apprendimento formale è erogato in un contesto organizzato e strutturato, per esempio un'istituzione universitaria o un'agenzia formativa accreditata, appositamente progettato come tale in termini di obiettivi di apprendimento e di tempi o anche di risorse per l'apprendimento. L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente e di norma sfocia in una convalida e in una certificazione. Si tratta di un attestato formale spendibile nel sistema di istruzione e formazione professionale, dei servizi al lavoro o nell'ambito del mercato del lavoro. Ad esempio, stiamo parlando di un titolo di studio come la laurea, o di un attestato di qualifica professionale, o di un certificato di competenze. L'apprendimento non formale non è sviluppato all'interno dei sistemi di formazione o istruzione a tale scopo deputati, ma può essere erogato sul luogo di lavoro, nell'ambito dell'associazionismo professionale, di organizzazioni o gruppi della società civile come i sindacati, il volontariato, ecc. È strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi e risorse per l'apprendimento ed è intenzionale dal punto di vista del discente. Non sfocia in una certificazione. In molti casi viene rilasciato un attestato di frequenza o, come nel caso dei corsi AIBA a quattro fasi, un'attestazione delle competenze. L'apprendimento informale rientra in tutte quelle forme di attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero e in cui si coltivano attitudini e si apprendono conoscenze, abilità e competenze principalmente basate sulle esperienze e relazioni sociali. Gli ambiti in cui possono avvenire tali apprendimenti sono disparati. L'associazionismo culturale, sociale, sportivo, i mass media, i no media, il sistema dei beni paesaggistici, artistici e museali, gli eventi musicali, teatrali, ludici e sportivi, ecc. Non è un apprendimento strutturato e organizzato in termini di obiettivi, di tempi o di risorse e nella maggior parte dei casi non è neanche intenzionale dal punto di vista del discente. L'apprendimento informale, proprio per questi motivi, è detto anche apprendimento esperienziale o fortuito o casuale. Negli adulti, l'80% della formazione si sviluppa in contesti di apprendimento informali. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo dalle relazioni interpersonali, facendo ricerche su internet, lavorando progetti di varia natura, viaggiando, guardando un film, leggendo un libro o visitando una mostra. L'apprendimento informale è un processo che avviene grazie all'esperienza quotidiana, spesso a livello inconsapevole. Proprio per questo, molti studi in materia si sono concentrati sull'apprendimento esperienziale, un modello di apprendimento basato sull'esperienza diretta e in cui entrano in gioco componenti cognitive, emotive e sensoriali che facilitano l'attenzione e la memoria. Il processo di apprendimento si realizza attraverso la sperimentazione di situazioni concrete, in cui il soggetto attivo richiama e mette in campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione di nuovi concetti volti al raggiungimento di un obiettivo. Il modello di apprendimento esperienziale si è diffuso grazie al contributo del teorico dell'educazione David Kolb, per il quale l'apprendimento è un processo in cui la conoscenza viene creata attraverso la trasformazione dell'esperienza. Tale processo, che è un processo circolare, si compone di quattro fasi. La prima fase è la fase dell'esperienza concreta, in cui entra in gioco l'interpretazione personale dell'esperienza. La seconda fase è la fase dell'osservazione riflessiva, che si sofferma sulla comprensione dei significati tramite l'osservazione, il confronto e l'ascolto. Segue la fase della concettualizzazione astratta, nella quale l'analisi e l'organizzazione logica dei flussi di informazioni si traduce nell'elaborazione di nuovi concetti. La fase della sperimentazione attiva è l'ultima fase in cui si testa e verifica quanto appreso, ai fini dell'elaborazione di una diversa strategia. Questa capacità riflessiva, analitica e di sintesi dell'esperienza di apprendimento, come afferma anche Matilde Fontanini nel volume sul portofolio delle competenze, risulta molto utile al professionista dell'informazione per la realizzazione non solo di una dichiarazione autovalutativa o di un portofolio, ma anche per decidere in che direzione crescere, selezionando con cura le esperienze di apprendimento utili a migliorare determinati aspetti della propria professionalità. Vediamo ora la casistica relativa alle esperienze di apprendimento formali, non formali e informali e le corrispettive definizioni date dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 13-2013. Rientrano tra le esperienze formali tutti quei processi di apprendimento che si attuano nel sistema di istruzione e formazione nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coeretica e che si concludono con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale conseguiti anche in apprendistato o di una certificazione riconosciuta. La casistica comprende, oltre ai titoli della scuola dell'obbligo, la laurea, che può essere triennale, magistrale e vengono compresi anche i diplomi accademici, i corsi singoli erogati da enti titolari o titolati con certificazioni o attestati di qualifica professionali e rientrano in questa tipologia di corsi, i corsi singoli universitari, i diplomi di istruzione tecnica superiore e di formazione professionale, le qualifiche professionali rilasciate da regioni, amministrazioni provinciali o agenzie formative accreditate, le certificazioni linguistiche o di competenze. Vi sono poi i master universitari di primo e secondo livello, i diplomi accademici di specializzazione post laurea e infine i dottorati di ricerca. Nell'apprendimento non formale rientrano tutte quelle esperienze che si realizzano al di fuori di sistemi formali di istruzione e formazione in ogni organismo che comunque persegue a scopi educativi e formativi anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. Si concludono con il rilascio di un attestato non ufficiale dell'organismo gestore dell'attività formativa, l'ente di formazione o l'impresa per intenderci, che contiene all'interno l'indicazione del tipo di iniziativa, dei moduli o delle aree tematiche e delle ore effettivamente frequentate dal partecipante. Nelle linee guida per la formazione continua, l'osservatorio formazione di AIB elenca la casistica di riferimento. Troviamo quindi corsi di aggiornamento e seminari formativi, la partecipazione a convegni, congressi e viaggi di studio, corsi di formazione con cui AIB non ha accordi di riconoscimento, corsi con attestazioni delle competenze. Questo elenco non vuole essere esaustivo, altre forme sono possibili, posto che se ne documenti la rilevanza. Rientrano inoltre nella casistica tutte quelle attività formative che migliorano le competenze dell'individuo o lo aiutano a svilupparne di nuove, ad esempio i corsi di grafica, di edizione, i corsi di lingua all'estero, i corsi di informatica, corsi di promozione alla lettura, come quelli organizzati da andati per leggere, eccetera. L'importante è che queste attività siano pertinenti all'esperienza professionale del singolo professionista che si racconta. L'apprendimento informale si realizza a prescindere da una scelta intenzionale, nello svolgimento da parte di ogni persona di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo. Nella legato 2 alla direttiva sulla formazione continua di AIB vi è un elenco esemplificativo di attività di apprendimento informali che riguardano il professionista dell'informazione. Fra queste troviamo le cariche e gli incarichi a livello nazionale e regionale in seno all'AIB, quindi l'essere stato eletto, per esempio, membro CEN oppure membro CER o aver ricevuto l'incarico in osservatori, commissioni, gruppi di studio, ma anche tutte quelle cariche istituzionali e quegli incarichi di natura professionale esterni all'AIB, come la partecipazione a commissioni di enti pubblici o a gruppi di studio o aver ricevuto nomine per responsabilità specifiche. Troviamo inoltre le attività di studi e ricerche e le pubblicazioni. Le pubblicazioni cartacee e le pubblicazioni elettroniche sono equiparate, quindi sono considerate attività informali, la redazione di articoli, di saggi scientifici, la stessura di pubblicazioni di settore, i contributi, le relazioni a convegni, le monografie, i repertori bibliografici, ecc. Sono considerate attività informali anche l'attività didattica e la responsabilità scientifica per corsi di aggiornamento professionale, quindi rientrano in questa categoria le docenze, il tutoraggio, la facilitazione, la responsabilità scientifica di corsi, convegni o di eventi. Ed infine, nell'elenco, troviamo anche l'attività on the job. L'aggiornamento on the job consiste nel miglioramento delle proprie performance lavorative in ognuna delle nuove aree di attività contemplate dalla norma UNI. Si traduce per lo più nell'acquisizione di nuove competenze e quindi in un arricchimento del saper fare attraverso una formazione più legata alla concretezza del lavoro. Secondo una definizione di Pierluigi Isola, on the job sono tutte quelle azioni formative che svolte nell'ambito del lavoro hanno come scopo il miglioramento delle competenze tecnico-professionali e il miglioramento organizzativo facendo leva su concrete condizioni. Sempre nella legato 2 della direttiva AIB trovate elencate una serie di attività legate all'aggiornamento on the job che può comprendere la lettura di saggio manuali, lo studio di leggi o circolari, il coordinamento o la partecipazione a piani e progetti di miglioramento dei servizi, il coordinamento scientifico o la partecipazione a gruppi di lavoro nell'organizzazione di mostre o eventi, l'esecuzione di incarichi particolari, ecc. Rientrano nell'aggiornamento on the job le attività didattiche di informazione ed educazione all'uso della biblioteca e degli strumenti bibliografici e le attività di tutoraggio per studenti. Facciamo riferimento quindi ai tirocini curricolari o post laurea. Questo tipo di attività, per essere riconosciuto, deve essere dimostrabile per mezzo del supporto di idonea documentazione, come possono essere gli ordini di servizio, gli attestati, il materiale e i progetti prodotti. In termini tecnici, sono le evidenze che provano la crescita del professionista dell'informazione. Per approfondire l'argomento sulle tipologie di apprendimento, nella sitografia del corso troverete due video dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche realizzati nell'ambito di una ricerca sull'apprendimento permanente e, in particolar modo, su iniziative formative di tipo informale e non formale che ha visto coinvolte due biblioteche italiane, la Sala Borsa di Bologna e la Nicolini di Roma.